Se sei alla ricerca di un tè sano da bere, allora dovresti prendere in considerazione il tè boldo. Questo tè unico ha una serie di benefici per la salute che possono migliorare la tua salute generale. In questo video parleremo dei motivi per cui fa bene il tè boldo e dei vari benefici per la salute che offre. Ti forniremo anche alcuni consigli su come prepararlo e berlo. Se sei interessata o interessato a saperne di più su questo fantastico tè, continua a guardare. 1. Aiuta la salute del fegato. Uno degli usi positivi del tè boldo è aiutare la salute e la funzione del fegato, uno degli organi più importanti dell'organismo. Il boldo ha dimostrato la capacità di stimolare la produzione di bile da parte del fegato, un liquido importante per la digestione. Grazie alle sue proprietà antiossidanti, il boldo protegge anche le cellule epatiche dai danni causati dai radicali liberi. Proteggendo queste cellule, il tè boldo contribuisce a evitare l'invecchiamento precoce del fegato e la sua vulnerabilità alle infezioni. 2. Aiuta la digestione. Forse il primo utilizzo del tè boldo è proprio quello di integratore per la digestione degli alimenti. Attivando la produzione di bile da parte del fegato, il tè boldo può migliorare la scomposizione degli alimenti in sostanze nutritive. Il tè boldo ha qualità antispasmodiche che aiutano a calmare i crampi intestinali e funziona anche come lassativo erboristico moderato per ridurre la stitichezza. È stato riconosciuto come diminuisca le sensazioni di mal di stomaco e può anche essere utilizzato per aumentare l'appetito per tutti coloro che hanno difficoltà a mangiare. 3. Elimina i calcoli biliari. Grazie alla sua capacità di aumentare la produzione di bile nel fegato, il tè boldo è in grado di ridurre i calcoli biliari attraverso la cistifellea prima che possano causare problemi. Aumentando la quantità di bile, il tè boldo aiuta la cistifellea a svuotarsi più spesso, eliminando così i calcoli prima che la loro dimensione diventi problematica. 4. Sostiene la funzione immunitaria. Il tè boldo supporta la salute immunitaria dell'organismo in diversi modi. Le ricerche dicono che comprende una serie di agenti antibatterici e antimicrobici naturali che possono aiutare i meccanismi di difesa a ridurre gli agenti infettivi all'interno del corpo. Come agente antinfiammatorio, il tè boldo può contribuire ad alleviare l'infiammazione eccessiva, rendendo i meccanismi di difesa maggiormente capaci di proteggere il corpo senza essere ostacolati dall'infiammazione. Inoltre è composto da antiossidanti che impediscono ai radicali liberi di causare danni alle cellule, rendendole altrimenti più suscettibili alle infezioni. 5. Diabete. Da secoli lo si usa come rimedio per il diabete. Il tè si ottiene dalle foglie dell'albero di boldo, originario del Cile. Secondo la medicina tradizionale, aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue e a migliorare la sensibilità all'insulina. Sebbene non esistano prove scientifiche a sostegno di queste affermazioni, alcuni studi suggeriscono che il tè boldo possa effettivamente essere benefico per le persone affette da diabete. In uno studio i partecipanti che hanno bevuto questa bevanda a base di erbe hanno registrato livelli di zucchero nel sangue più bassi dopo i pasti rispetto a coloro che non avevano bevuto il tè. Un altro studio ha rilevato che il tè boldo ha migliorato la sensibilità all'insulina nelle persone affette da diabete di tipo 2. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare i benefici del tè boldo, può valere la pena provarlo se si soffre di diabete. 6. Allevia l'infiammazione. Le ricerche dimostrano che i vari antiossidanti contenuti in questo tè possono ridurre l'infiammazione cronica e acuta dell'organismo. Come preparare un delizioso tè boldo? Ingredienti. 600 millilitri di acqua. 1-2 cucchiai di foglie di boldo essiccate. 1 cucchiaio di miele. Istruzioni. 1. Per preparare il tè di boldo aggiungi 600 millilitri d'acqua in un pentolino e portala a ebollizione. 2. Aggiungi 1-2 cucchiai di foglie di boldo essiccate, intere. 3. Riduci il calore a fuoco lento e copri la casseruola. 4. Lascia in infusione il tè per 5 minuti. 5. Scolla le foglie e servi caldo. Se lo desideri aggiungi un cucchiaino di miele per renderlo più dolce.